Il sopraluogo congiunto effettuato nella giornata di venerdì nella Galleria del Traforo dal commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso Pierluigi Caputi alla presenza dei dirigenti tecnici della Italfer, dell'ente gestore Ruzzoreti Spa di Teramo e dei responsabili del Sian, il servizio igiene dell'Asra di Teramo, ha fugato ogni possibile dubbio, escludendo qualsiasi collegamento tra il problema dell'acqua torbida e le attività di Italfer. E quanto rende noto lo stesso commissario che aggiunge l'aumento del valore della torbidità dell'acqua è avvenuto prima dell'avvio di qualsiasi attività operativa da parte di Italfer e dei soggetti da quest'ultima incaricati, dice il commissario. Tanto è vero che la richiesta di Ruzzo di fermare i mezzi, due macchine e un camion corrimorchio, è arrivata al momento dell'ingresso dei suddetti mezzi dal fornice del lato aquilano, quindi in una posizione in cui è impossibile influenzare l'alto versante e in un momento in cui l'acqua era già a scarico preventivo. Su tale constatazione sono stati concordati gli interventi e tutti hanno apprezzato la tempestività e l'efficienza gestionale della Ruzzoreti. Infatti l'acqua torbida non è mai stata immessa nella rete idrica, come poi affermato dall'ente gestore con una nota ufficiale. L'episodio dell'intorbidamento dell'acqua comunicato da Ruzzo nella tubatura al di sotto della careggiata stadale ha determinato la sospensione del campiere, continua il commissario, e rappresenta una ulteriore dimostrazione tangibile della grande vulnerabilità dell'intero sistema che oggi consente all'acqua del Gran Sasso di arrivare ai rubinetti dei cittadini e conferma l'assoluta necessità dei lavori di messa in sicurezza della risorsa idropotabile. Durante il sopralluogo con cui il commissario si è appreso dell'oscillazione della torbidità dell'acqua da valori molto al di sotto della soia di legge a picchi che determinano la messa a scarico delle acque, avvenuta in una situazione di assoluta assenza da giorni di mezzi e persone nella galleria, pertanto si è convenuto che sia un problema che Ruzzo Reti deve affrontare per comprenderne caos e rimedi.